buonasera a tutti amici benvenuti di nuovo nel video numero 3 qua siamo nella fase come alcuni hanno seguito già i video precedenti il video numero 0 il video numero 1 il 2 queste 3 ora siamo nella fase di equalizzazione delle batterie con il nostro alimentatore da abbiamo impostato la tensione di 3,64 vols e adesso stanno entrando in batteria 2mbr 128 e man mano siamo a circa 24 ore dalla da quando abbiamo messo a caricare le batterie ora con il nostro voltimetro controlliamo a che punto sono le batterie ovviamente vi ricordo che di avere pazienza perché ci vorrà un bel po di tempo per raggiungere la tensione che abbiamo impostato 3,64 allora adesso siamo a aspetta se tocca bene con una mano siamo a 3,229 da 3 volts e 70 siamo arrivati in 24 ore a 3,229 e dobbiamo aspettare ancora quindi almeno non so se ci vorranno altre 24 ore o qualcosa di più quindi dobbiamo attendere ancora passo passo vi sto facendo tutti questi video per farvi vedere magari a capire chi non l'ha visto mai chi non ha fatto mai un'equalizzazione un montaggio di un pacco batterie per spiegarvi proprio passo passo come funziona tutto l'assemblaggio del pacco batterie di sana pianta da 0 fino al pacco batterie finito e quindi dobbiamo ancora aspettare ora magari poi ricontrolliamo domani sempre in questo video poi vedete il il proseguo della di questa equalizzazione poi finiremo l'equalizzazione all'ultimo quando abbiamo raggiunto la tensione impostata qui nel nel voltimetro di 3,64 infatti qua si vede che entra corrente nelle batterie assorbono quando abbiamo detto raggiungiamo i 3,64 delle 65 volts ne prenderemo una a caso di cella e la testeremo con il nostro test di capacità vediamo quanta corrente riescono ad accumulare le singole celle quindi ragazzi aspettiamo ancora un po e vediamo poi tra non so un'altra 24 ore 12 ore io man mano poi ritorno qui e li monitoriamo insieme siamo di nuovo qui e allora le batterie ancora sono sotto carrica in equalizzazione e qui l'alimentatore ancora segna 3,64 come abbiamo impostato noi che dovrebbero raggiungere le celle e due amperre ancora di assorbimento ieri ieri sera in nottato diciamo la notte scorsa assorbivano due amperre virgola cento qualcosa quindi man mano si stanno leggermente riempiendo ma come vi ho detto ci vorrà molto tempo e quindi c'è da attendere comunque non avete fretta perché purtroppo è così allora ora vediamo a quanto sono arrivate come tensione le nostre batterie vediamo se riusciamo allora segnano 3,2 vols e 38 3,238 vols allora questa notte eravamo a 3,222 all'incirca mi sembra quindi siamo al secondo giorno è salito di poco questa fase qui è diciamo quella dove proprio il range da 3,1 a 3,45 e dove abbiamo proprio l'effettiva capacità delle nostre batterie l'IFPO4 infatti come dico io è inutile scaricarle sotto i 3 vols per sfruttare pochi amperre perché sotto i 3 vols abbiamo fino a 2,5 a 2,5 abbiamo pochissimi amperre quindi è inutile sfruttarle fino al al minimo proprio delle nostre l'IFPO4 il range di massima di chiamiamola così massima capacità delle nostre batterie tra i 3,1 e i 3,45 lì troviamo tutta la potenza del nostro pacco batterie o della singola batteria ad esempio quindi come avete visto ad arrivare a 3,2 diciamo che in una giornata quasi in un giorno ci siamo arrivati adesso va molto al rilento perché è proprio dove lei immagazzina tutta la potenza agli amperre della batteria che può accumulare magari dopo verso i 3,45 può essere che salirà un po' prima rispetto ad adesso perché diciamo è quasi satura questa è la fase proprio di riempimento in questa fase qui assorbe tantissima potenza fino ad arrivare quasi al 90% oltre i 3,45 già siamo quasi al 90% e poi rimane il 10% che entrano poche amperre alla fine quindi per questo le l'IFPO4 vengono sfruttate in questo range dai 3,45 diciamo fino ai 3,3,1 non di più sia sopra che sotto quel voltaggio perché è inutile stressarle perché non abbiamo chissà quanti amperre gli amperre effettivi la capacità massima del nostro pacco batterie si trova tra i 3,1 e i 3,45 questa è per mia esperienza che dopo che ho costruito il primo pacco batterie ho visto qualche altro pacco batterie di amici che abbiamo sistemato quindi è inutile andare oltre stresseremo solamente la nostra batteria ecco quindi ragazzi torniamo di nuovo più tardi e vediamo un po' a che punto siamo con le nostre batterie ma sicuramente ci vorrà ancora qualche altro giorno vedremo insieme comunque allora ragazzi siamo ritornati di nuovo qui nel nostro pacco batterie adesso siamo diciamo alle 48 ore quasi precise di carica allora controlliamo qui il nostro alimentatore è sempre a 3,64 questo non si sposta perché è il limite che noi abbiamo impostato gli amperre un po' oscillano perché entra corrente un amperre 9 nelle batterie quasi 2 e il nostro pacco batterie è ancora sotto carica ora controlliamo di nuovo dopo 48 ore la tensione vediamo che tensione siamo arrivati i puntali abbiamo messo mettiamoli bene ecco qui siamo 3,2 3,250 è salita di poco ma questo è il punto dove accumula tanta corrente quindi magari domani si arriverà non so a 3,3 magari domani mattina domani pomeriggio vediamo ricontrolliamo domani e ancora si prosegue per l'equalizzazione e portarle a 3,64 3,65 circa ok vediamo più avanti ragazzi siamo di nuovo qui allora le batterie sono sempre in equalizzazione ora vediamo stanno entrando ancora 2 ampere e 100 dal nostro alimentatore vediamo che tensione hanno raggiunto siamo a 3,271 allora i ragazzi io ho deciso di di fermarmi a 3,3 se entro stasera ci arriviamo alla tensione di 3,300 quando arriverà perché alla fine non è che è legge che devono arrivare per forza a equalizzarli fino a 3,65 chi glieli vuole portare io la prima volta glielo ho portate però non cambia niente perché è una legge che si dice si devono per forza portare a 3,65 no alla fine poi non ci arriveranno mai nella vita quando li useremo per la prima volta ma alla fine non cambia niente perché collegati così si equalizzano comunque già da sole senza nessun non c'è bisogno di un equalizzatore come si usa quando sono installate in serie perché ovviamente in serie ci vuole un equalizzatore perché non riescono ad equalizzarsi da sole come in questo caso collegate così in parallelo così si equalizzano da sole questa equalizza questa la seconda equalizza la terza e così via e rimangono tutti nella stessa tensione alla fine se noi arriviamo a 3,3 di carrica non è la carrica completa però possiamo anche fermarci così a parte per i tempi biblici che ci vogliono per arrivare alle tensioni di 3,65 quasi siamo oggi nel quasi nel terzo giorno siamo quasi entrati quindi immaginate se c'è un pacco batteria da 280 ampere quanti ci vorrà anche 15 giorni di equalizzazione ma comunque alla fine si equalizzano con lo stesso se noi stacchiamo alla tensione in tutte le celle uguali non c'è nessun sbilanciamento ripeto chi le vuole portare a 3,65 le può anche portare non però non è legge non è per forza portarla a quelle tensione lì si possono anche fermarci a 3,4 a 3,3 come voglio fare io però solamente una cella che prenderemo e una volta raggiunte la tensione di 3,3 che poi li staccherò prenderemo solamente una cella di queste batterie e la collegheremo e la caricheremo a 3,65 cioè al massimo diciamo consentito a 3,65 dopo di che la collego al mio test lo scaricatore test e vedremo la porteremo fino a 2,5 di scarica e vedremo la capacità di una cella singola così presa a caso da questo pacco batterie vediamo un po e quindi quello che vi volevo dire vi ripeto non è una legge che forse dovete portare a 3,65 anche perché ci vuole un mare di tempo ma chi lo vuole fare lo può fare io l'ho fatto una volta ma non cambia nulla anche a 3,3 va bene lo stesso non anzi forse penso neanche li stressamo più di tanto a 3,65 ma comunque vabbè e io volevo dirvi questa cosa ora ci di nuovo ci ritorniamo quando arriveranno alla tensione di di 3,3 circa così anzi se vogliamo portarli a 3,3 dobbiamo impostare qui il il nostro alimentatore alla tensione di 3,3 come vogliamo noi a 3,3 così si fermeranno a 3,3 ok vediamo poi più tardi ragazzi siamo di nuovo qui sul nostro pacco batterie in equalizzazione allora siamo qua quasi diciamo ancora sono le 2,20 ma mezzanotte fa circa tre giorni che sono sotto carri che in equalizzazione ci vuole così tanto tempo comunque sia non sono batterie grandissime di capacità 105 ampere quindi pensate le 2,80 ampere quando ci vorrà di tempo queste qui messe così in parallelo facciamo conto che come amperaggio sono 105 più 105 siamo a 210 già su due batterie 440 su 4 batterie quindi immaginate il tempo che ci vorrà per portarle alla tensione di a 3,65 appena carica ci vuole un mare di tempo io una volta l'ho fatto ma non è necessario per forza portarle a 3,65 perché cioè questa qui si mettono in dice perché allora si mettono in in questo modo in equalizzazione perché quando arrivano magari non sono tutte bilanciate precise per la prima volta si fa questa procedura qui si possono portare sia a 3,65 se si vuole come vi ho già detto però magari non è proprio necessario cioè non è una cosa proprio di di vitale importanza ecco quindi ora misuriamo a quanto sono arrivate magari ci possiamo anche fermare qui perché tanto l'altro pacco batterie che io ho che è in funzione e non è che lo equalizzo di nuovo quindi dovrà essere messo su peggio insieme a questo e con una tensione quasi diciamo uguale perché quando lo staccherò dovrò su peggio portarlo alla quasi alla stessa tensione di questo adesso siamo a 3,276 quasi a 3 a 3,3 già diciamo che che potrebbe andare bene qui ancora entra corrente io l'ho messo di nuovo a 3,65 per far entrare un po' più corrente ma ci vuole comunque tempo se la dobbiamo portare a 3,65 ma come vi ripeto non è necessario ora noi facciamo una cosa questo qui abbiamo finito come equalizzazione se ripeto chi vuole può portarla a 3,65 non oltre vi raccomando oppure a 3,4 3,5 alcuni li portano anche a 3,5 non per forza 3,65 io ho deciso di lasciarla a 3,3 ma all'incirca già va bene non c'è tutta questa necessità questo qui verrà smontato allora si si stacca il caricabatterie l'alimentatore si stacca si spegne si si sganciano le pinze e si lascia mezz'oretta in così in in questo in questa maniera collegata in parallelo perché questa procedura perché togliendo la corrente la batteria diciamo si scende di poco di qualche millivolts e si stabilizza e si equalizza la corrente in tutte le celle uguale nella maniera c'è tutte in autonomia si passa la corrente tra le celle e si equalizzano dopodiché potrebbero essere pronte perché ripacco batterie però siccome io ne voglio prendere una e quella che prenderò questo o questa non so poi una a caso che poi magari vi farò un altro video ovviamente perché come vi ho detto vi devo far vedere proprio anche se saranno 20-30 video non c'è problema vi farò vedere passo passo tutto il procedimento allora poi ne prenderò una a caso una a caso cosa succederà siccome ci siamo fermati a 3,3 volts una cella solamente la porterò a 3,65 al massimo e così facendo useremo il test di capacità come vi ho detto fino al minimo di scarica di 2,5 volts così vediamo la capacità della nostra batteria la vedremo insieme quindi ma ovviamente a 3,65 una sola cella ci arriverà in minor tempo non abbiamo qua più di 800 ampere da caricare una sola cella ci arriva in minor tempo quindi questo è quello che faremo più avanti ora fatto questo qui si stacca il o siete arrivati a 3,65 o a 3,3 volts come me o a 3,5 che volete arrivare non fa differenza come siete arrivati alla tensione da voi desiderata staccate non fate arrivare più corrente alle batterie e staccate le pinze le staccate e le mettete da parte e questo pacco batteria così collegato senza toccare niente lo lasciate mezz'oretta mezz'oretta dopodiché potete svitare tutti i busbari i fili questi qui e diciamo il vostro pacco batteria è pronto poi per la fase successiva di assemblaggio e tutto il resto che poi quelle vedremo più avanti però io adesso lo smonterò ne prenderò uno a caso e poi faremo quel test che vi ho detto il video ragazzi questo qui finisce qui e poi ce ne saranno altri questo del test e poi tanti altri per l'assemblaggio io vi ringrazio cliccate mi piace se il video vi è piaciuto e grazie mille sempre al prossimo video grazie grazie